Salve, buonasera, benvenuti al nostro ultimo appuntamento del ciclo di webinar la sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. Siamo arrivati al quarto degli appuntamenti previsti. Vedo che state entrando numerosi. Questo ciclo di webinar ha raccolto il massimo numero di iscrizioni possibili. Sono webinar molto partecipati e per chi non avesse potuto seguire tutti e quattro i webinar io vi rimando sempre alla pagina di Eventi PA dove trovate il link alle registrazioni, alla playlist su YouTube dove potete recuperare quello che avete perso. Allora è inutile dire a voi che vi siete iscritti l'importanza di questo tema. Oggi in fase conclusiva faremo anche appunto una breve valutazione, un breve riassunto di quello che è stato appunto questo percorso iniziato l'11 novembre. Su questo tema probabilmente anche all'interno di questo progetto che è informazione e formazione per la transizione digitale nell'APA che Formez realizza insieme ad Agid. Su questo tema vi dicevo probabilmente ritorneremo anche con il nuovo anno. Quindi chi ha perso qualcosa può anche recuperare in sincrono nei prossimi webinar. È un tema che è all'attenzione di tutti. In quest'ultimo anno c'era un articolo l'altro giorno all'inizio, l'11 novembre mi pare, sul Sole 24 ore che riportava proprio quanto sono aumentati gli attacchi informatici nei confronti anche di importanti aziende, non solo della pubblica amministrazione. Già se si contano dal 2020, nel 2021 c'è stato un aumento di quasi del 25% di attacchi informatici. In un'ottica di prevenire piuttosto che curare, questi webinar appunto vogliono in qualche modo dare l'ABC di quello su cui bisogna stare attenti nella PIA per evitare di incappare in situazioni che diventano poi difficilmente recuperabili, che diventano appunto disastrose. Allora, io oggi do la parola a due esperti ormai conosciuti, no? Tre esperti ormai conosciuti che sono Massimiliano Rossi, Dario Basti e Michele Petito di Agid che in particolare vi racconteranno gli strumenti e le linee guida a supporto di chi vuole appunto fare sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. Abbiamo parlato negli scorsi webinar delle principali tipologie di malware e della vulnerabilità di alcuni software. Abbiamo affrontato anche il tema del phishing, dei modelli e oggi in qualche modo vediamo come tutto questo nelle linee guida viene indicato, viene considerato come operatività per le pubbliche amministrazioni proprio per fare sicurezza informatica. Io do la parola subito a Massimiliano Rossi che fa la prima comunicazione gli strumenti di prevenzione per la sicurezza informatica. Vi ricordo che potete porre le domande in chat e che abbiamo uno spazio alla fine delle comunicazioni dei nostri tre esperti dopo la pausa caffè. Quindi se ponete le domande in chat gli esperti in parte potranno rispondervi direttamente all'interno delle comunicazioni che faranno, altrimenti vi daranno delle risposte diciamo dedicate nella parte finale del webinar. Allora gli attestati non si scaricano per la fine di questo ciclo di webinar, non si scaricano da eventi PA ma vi arriveranno direttamente sulle mail una volta che avremo capito che avete partecipato a tre webinar su quattro come richiedeva appunto il ciclo di webinar nella pagina che avete letto di eventi PA. Quindi chi ha partecipato a tre webinar su quattro riceverà, dopo aver fatto le opportune verifiche riceverà direttamente sulla posta l'attestato. Basta, chiudo. Massimiliano se provi a parlare. Sì, grazie Patrizia per l'introduzione, spero che si senta bene. Bene, intanto benvenuti a quest'ultimo appuntamento con la sicurezza informatica io sono Massimiliano Rossi, sono un analista di sicurezza informatica del Certagid mi occupo di Cyber Risk Management Policy di sicurezza e sicurezza informatica in generale e l'altra volta diciamo ci siamo lasciati con i modelli. Avevamo visto i modelli che Cyber Kill Chain e Diamond Model e abbiamo inquadrato un pochettino la situazione rispetto al malware e al phishing. Come vi raccontavo l'altra volta, le misure che possiamo mettere, le contromisure che possiamo mettere in campo oltre a diciamo quelle attive tipo il feed, gli ossidi, certaggi, la segmentazione della rete LAN o il CM configurato correttamente, ci sono anche un gruppo nutrito di misure preventive che comprendono le linee guida di svariato genere, adesso le vedremo un attimino più in dettaglio anche col collega Abbasti e Petito, le linee guida sul procurement e soprattutto la formazione che stiamo vedendo anche adesso con questo seminario. Queste, diciamo, contromisure hanno il compito di creare consapevolezza consapevolezza, come dicevo l'altra volta, del problema del rischio cyber, della risoluzione del problema risoluzione è un po' troppo forte come termine, dell'abbassamento del rischio, parliamo così, del rischio cyber insomma. quindi in generale adesso vedremo tutte queste misure preventive nelle loro varie declinazioni vediamo un attimino il contesto di riferimento della sicurezza informatica nella pubblica amministrazione abbiamo un ambito preciso della pubblica amministrazione nelle quali Agid definisce le azioni del piano triennale e supporta la Consip nella definizione di sicurezza anche per le care strategiche in generale ci sono anche delle soluzioni operative che comprendono i servizi preventivi di sicurezza informatica e soprattutto, come stiamo facendo adesso, la Cyber Security Awareness cioè la consapevolezza che esiste tutta questa fascia di problemi legati alla sicurezza informatica d'altro canto Agid, in seno al CERT, offre dei servizi di early warning attraverso anche il feed IOC cioè distribuisce gli IOC che vengono analizzati all'interno dei propri laboratori e anche parallelamente a questo offriamo anche un tool di Cyber Risk Assessment diamo un'occhiata in tutta questa storia, passatemi il termine al piano triennale per la pubblica amministrazione in generale il nuovo piano triennale 2020-2022 è molto più snello rispetto agli anni passati abbiamo voluto efficientare il piano dando delle azioni precise sia all'EPA sia ad Agid così che tutte le azioni si possono opportunamente monitorare per capire a che punto ci troviamo rispetto a una baseline che andiamo a delineare la sicurezza nel piano triennale è appunto all'interno del capitolo 6 l'obiettivo che ci siamo posti per migliorare sia l'awareness cioè la consapevolezza che proprio la sicurezza della pubblica amministrazione in generale siamo andati a vedere che la formazione ha un ruolo centrale in queste tematiche formazione continua e quindi il risultato atteso è proprio l'incremento del livello della Cyber Security Awareness parallelamente a questo task volevamo aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali perché proprio i portali istituzionali e non altri sistemi o comunque tutto il sistema? Intanto perché il portale istituzionale di una pubblica amministrazione consentitevi il termine è un attimino l'accesso a quella pubblica amministrazione grande o piccola che sia mi spiego meglio l'accesso alla pubblica amministrazione che ha che avviene tramite il portale istituzionale dà accesso anche a tutti i sistemi abbiamo visto adesso si possono soprattutto negli antilogali si possono scaricare 14 tipi di certificati diversi questo significa che tutte le PA sono collegate quindi ogni portale istituzionale è un accesso all'intera PA quindi difendendo opportunamente il portale istituzionale si aumenta la sicurezza complessiva di tutta la PA e sicuramente la sua resilienza cosa siamo andati a vedere di preciso? Abbiamo visto che volevamo migliorare l'HTTPS per farvela breve l'HTTPS è quel lucchettino verde che è nei browser quando ci si collega a un portale questo che significa? Significa che la comunicazione end to end cioè tra cittadino impresa o anche un'altra pubblica amministrazione viaggia in un canale cifrato ovvero che non è accessibile dall'esterno le azioni man in the middle sono diciamo notoriamente più complicate con l'HTTPS only significa che si usa solo il tipo di protocollo HTTPS a questo proposito dopo vedremo un attimo un po' più in dettaglio che certaggi da scritto delle linee guida una guida tecnica sulla corretta configurazione del TLS che è alla base dell'HTTPS e l'altro obiettivo che ci siamo preposti è la massimizzazione del numero dei CMS che sono i content management system dei portali istituzionali non vulnerabili e a questo proposito come vedremo tra un attimo Agit anche fornisce un tool di self assessment per verificare le proprie configurazioni anche a valle dei monitoraggi che sono stati effettuati sempre in base al piano triennale facciamo un piccolo recap degli strumenti di prevenzione rispetto a un approccio temporale degli strumenti stessi come potete vedere la linea arancione è lunghissima perché le linee guida in generale rispondono in maniera strutturata alle minacce sia attuali che future nel senso se io come pubblica amministrazione riesco ad applicare le linee guida in maniera corretta posso anzi progetto dei sistemi informatici che sono resilienti sia sicuramente alle minacce attuali ma sono predisposti anche per rispondere alle minacce future il certaggide invece ha il compito diciamo temporalmente più ristretto risponde alle minacce attuali però come abbiamo visto vedremo fra qualche slide abbiamo sviluppato dei sistemi preventivi di sicurezza informatica e servizi di cyber security awareness il tool di risk assessment che vedremo un po' più in particolare oggi è un tool per la progettazione e l'individuazione di problematiche esistenti o addirittura come vedremo di problema di analisi di sistemi che devono ancora essere sviluppati quindi sicuramente aiuta security per quanto riguarda invece le linee guida sullo sviluppo futuro sono diciamo anche esse a medio lungo termine però essendo come dire la sicurezza informatica una materia in continua evoluzione è necessariamente a medio termine come strumento perché queste guide tecniche devono essere riscritte e riviste molto spesso ok vado avanti quindi come dicevo poc'anzi abbiamo un tool per il risk assessment le linee guida alla piattaforma infosec per essere informati su tutte le minacce che ci sono al momento la trasmissione automatizzata dell'ioc e lo strumento di autoverifica https e cms per le pa che insomma vedremo un attimino brevemente fra qualche slide quindi tornando un attimino alle linee guida in testa abbiamo le linee guida per la sicurezza del procurement ict di cui parlerà il collega Basti che diciamo contengono indicazioni precise su come una PA deve condurre sia la gara che la conduzione del contratto rispetto alle norme di sicurezza per fare un piccolo esempio è come se un ingegnere civile va a costruire un palazzo ha delle regole precise e delle norme precise da rispettare in queste linee guida tentiamo di dare delle regole precise di sicurezza da rispettare le linee guida per lo sviluppo sicuro del software che vedrete in dettaglio con il collega Petito contengono delle indicazioni precise per garantire un ciclo di sviluppo sicuro del software ovviamente all'interno delle pubbliche amministrazioni poi abbiamo le misure minime di sicurezza ict che sono un obbligo per le pubbliche amministrazioni che fondamentalmente non richiedono nessun tipo di tecnologia fantascientifica basta anche carta e penna per compilare e avere una situazione del proprio sistema informativo e come dicevo prima per quanto riguarda il TLS e l'HTTPS abbiamo scritto delle raccomandazioni per la corretta configurazione del TLS tra un attimo rispondo a Paola Socci che chiede lei dice che sta provando a usare il tool ma è possibile avere supporto per chiarimenti no, il contatto è giusto e gestione di rischio quanto prima le risponderanno alcune informazioni utili dal sito della sicurezza nazionale vi ho estrapolato la direttiva NIS che è Network Information Security che diciamo in questa slide c'è una piccola disamina su gli OSE gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali serve per una certa categoria di pubbliche amministrazioni e fondamentalmente chi vuole approfondire ho lasciato il link è un'informazione abbastanza utile per inquadrare anche normativamente la propria pubblica amministrazione altre informazioni utili sono sicuramente una sul GDPR che ricordiamoci che in 72 ore bisogna informare l'autorità garante per la protezione del dato l'autorità garante in caso di data breach e vorrei segnare anche l'articolo 32 che è il principio dell'accountability ovvero che il garante o comunque il legislatore europeo non dà puntualmente delle indicazioni su come costruire un sistema sicuro ma lascia il principio dell'accountability ovvero la responsabilità è della pubblica amministrazione basta che dimostri di aver messo in campo tutte le soluzioni di sicurezza per i propri dati e poi volevo portare alla vostra attenzione anche un'altra figura molto importante che dovrebbe essere all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni anche questo è un obbligo articolo 17 del CAD il responsabile della transizione digitale adesso passiamo a quello strumento di autoverifica della configurazione dell'HTTPS CMS che noi abbiamo inserito sia nel piano triennale vecchio cioè scusate nel piano triennale 2022 che serve alle amministrazioni quindi soltanto inserendo il dominio da controllare vi arriverà un report che contiene lo stato del vostro HTTPS e la versione del CMS ovviamente bisogna avere indicato propriamente siccome il match fra dominio e PEC a cui rispondere col report è indicato in IPA le informazioni in IPA devono essere complete IPA ricordo è l'indice delle pubbliche amministrazioni italiane andando avanti abbiamo anche l'abbiamo già accennato in altre presentazioni ma il feed da IOC che c'è Tagid mette a disposizione sempre delle pubbliche amministrazioni per migliorare la sicurezza dei sistemi perimetrali delle pubbliche amministrazioni fornisce gli IOC delle analisi che sono state effettuate all'interno del CERT e adesso guardiamo un attimino più in dettaglio come funziona il tool di Cyber Risk Management abbiamo una fase iniziale una fase di analisi e una fase operativa la fase iniziale diciamo in generale definisce il contesto in cui opera la PIA censisce i servizi digitali di cui vogliamo fare l'analisi e poi la fase operativa che è quella molto importante mette in campo proprio un cronoprogramma per le azioni da intraprendere le azioni da intraprendere per mitigare il rischio che abbiamo identificato nella fase di analisi un attimo Lorenzo Rossi nel feed da IOC di Agile dedicato ai firewall vedo che sono presenti assieme alle URL anche gli hash dei file sarebbe utile secondo me tenerli separati URL e hash non so se però questa mia esigenza condivisa o è un problema sullo mio ma in realtà noi aderiamo agli standard the best practice sia europee che della normativa quindi in generale IOC e URL dovrebbero essere in quel formato lì continuando con la cyber risk management il nostro tool aderisce agli standard di riferimento come la 31000 per la gestione del rischio l'IRAM2 che è una metodologia di cyber risk assessment proprio per la sicurezza informatica la 27001 che appunto gestisce correttamente la sicurezza delle informazioni NIST che è un ente che è regolatorio diciamo in ambito information security e le misure minime di sicurezza istitiva e l'APA di cui abbiamo parlato prima che sono la cui compilazione è obbligatoria andiamo un pochettino più nel dettaglio rispetto alla metodologia di cyber risk management come potete vedere c'è una fase 1 che definisce il contesto una fase 2 che è la valutazione del rischio e la fase 2 che è il trattamento del rischio valutato molto importante sono tutte e tre le fasi ma in generale possiamo vedere che l'identificazione del rischio è proprio la fase in cui noi una volta censito il servizio digitale calcoliamo l'impatto l'impatto del servizio può essere di tanti tipi se ci sono dati sensibili è sicuramente sui dati sensibili però nel nostro tool valutiamo anche la parte reputazionale insomma la web reputation della pubblica amministrazione una volta ponderato il rischio si cicla finché non abbassiamo l'indice di rischio che abbiamo identificato come lo abbassiamo l'indice del rischio facendo le azioni di trattamento nel senso che se dall'analisi scopro che il mio faccio un esempio davvero come dire banale il mio firewall è del 2001 per fare un esempio del firewall magari è il caso che io investa dei soldi per prendere un firewall nuovo ad esempio se non c'è un corretto processo di gestione della sicurezza delle informazioni in quel momento è il caso che venga rifatto il processo e quella è solo una parte diciamo di processo che è a costo zero fondamentalmente si tratta solo di definire chi fa cosa e di inquadrare esattamente le figure che eseguono i task andando avanti possiamo vedere a grandi linee il macromodello di calcolo del rischio una volta individuata la vulnerabilità si capisce qual è il livello di disposizione e tramite probabilità di accadimento e impatto quello che ci interessa è il rischio attuale gli impatti vengono anche diciamo calcolati attraverso dei benchmark cioè attraverso delle soglie di confronto per dirla all'italiana gli ambiti di applicazione del tool di risk assessment diciamo che in generale noi abbiamo avuto molti feedback dagli enti e accanto ai servizi esistenti e ai servizi in sviluppo abbiamo anche affiancato appunto i servizi di sviluppare che vi avevo accennato prima cioè simuliamo il rischio di un servizio digitale ancora da sviluppare questo perché perché in questa maniera riusciamo anche a governare e scrivere un capitolato di gara il più corretto possibile anche anche no soprattutto in base alla ai dettami della sicurezza informatica la security by default andando avanti vediamo un attimino com'è l'interno del tool di risk assessment dopo l'accesso con speed cioè dopo l'accreditamento della PA ritroviamo le fasi di cui ho parlato qualche minuto fa che sono analisi trattamento e executive summary che sarebbe la parte di cronoprogramma che vedremo fra qualche slide cioè è proprio la parte nella quale bisogna impegnarsi di più per abbassare il rischio che abbiamo individuato questo è un esempio di report risultati dell'analisi del rischio su dati di esempio come potete vedere per esempio sicurezza dei data center in questo caso qui è a 1 1 è molto basso quindi in generale un ipotetico trattamento verterà sul abbassare quel rischio quindi in generale magari abbiamo attraverso le domande che sono state individuate rispetto al tool di risk assessment capito che le porte dei CED non hanno serratura quindi sono accessibili a chiunque quindi se vogliamo abbassare il rischio di intrusione fisica dobbiamo mettere le serrature a tutti o le serrature che siano digitali o basta che non sia possibile l'accesso a tutti quanti all'interno dei centri di elaborazione dati questo è un esempio ovviamente qui ci sono tutti i domini abbiamo gestione infrastruttura cloud sicurezza del software protezione infrastrutture IP insomma in generale tutto quello che riguarda la sicurezza di un servizio digitale questo è un altro piccolo esempio che dice che fa vedere gli attacchi logici e fisici come sono trattati all'interno del tool di risk assessment un altro esempio appunto è che l'attacco al sistema di autenticazione se mal configurato ha un'esposizione a una vulnerabilità alta rispetto alla pubblica amministrazione ovviamente e questo invece è l'esempio del monitoraggio continuo del piano dei trattamenti che rispetto al paradigma plan do check act riesce a far tenere sotto controllo il piano dei trattamenti cioè le azioni individuate per mitigare il rischio alle pubbliche amministrazioni in questo in questa console è possibile anche selezionare un trattamento e metterlo in pausa metterlo in pausa significa che lo metto in pausa per qualsiasi tipo di motivo magari sto aspettando il budget magari sto aspettando la determina a contrarre magari sto aspettando che il dirigente nuovo arrivi in generale con questa piccola dashboard si tiene sotto controllo tutto tutte le azioni individuate andiamo avanti diciamo siamo arrivati quasi alla fine questi sono i contatti del del certagid se volete segnalarci qualche campagna malware o phishing o scam la mail è malware at certagid govit grazie per l'attenzione un attimo che provo a rispondere azioni di trattamento firewall il vecchio da sostituire come sapere quando è il momento di sostituirlo se è ancora correttamente funzionante e protegge beh in generale questo tipo di informazione intanto se le firme sono aggiornate diciamo correttamente funzionante protegge e dipende dai punti di vista quindi se rispondendo correttamente alle domande poste dal tool di disk assessment il tool calcola che in generale quel firewall ad esempio io ho fatto un esempio ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa è vecchio intanto andare a vedere e fare una verifica sicuramente aiuta a capire se correttamente funzionante o protegge perché ci sono tanti test da poter fare su un firewall per vedere se davvero è correttamente funzionante e protegga dalle minacce purtroppo non esistono Bruno Citarella purtroppo non esiste un'attività costo zero nella sicurezza magari costo più o meno elevato rispetto all'impatto potenziale qui l'analisi rischio è di enorme aiuto beh certo rimane poi sensibilizzare il management sugli investimenti necessari e questo se posso permettere magari si può fare proprio col piano dei trattamenti nel senso che si fa vedere il piano dei trattamenti al management anche perché il tool ricordo è di self assessment nel senso non è un obbligo quindi serve proprio a quello e sono d'accordo con Bruno nel senso che sicuramente non è un costo ma investire in sicurezza è un'opportunità magari il problema fossero le porte dei CED sì ma io ho fatto un esempio ho seguito alcuni assessment orientati alla 27001 e ho visto cose che voi umani sì concordo sicuramente è un esempio un attimino didattico ecco la porta del CED Rosario Alagna manca proprio la percezione del rischio concordo concordo su questo sì infatti la sensibilizzazione la facciamo anche attraverso questi webinar Paola Sorci in riferimento alle domande su data center se i servizi critici sono stati migrati da un data center sento al gruppo A ma si mantiene un piccolo data center locale per i servizi di rete come ci si deve contenere bisogna fare l'assessment sia di uno sia dell'altro cioè se qualcosa rimane in casa bisogna bisogna capire che cosa abbiamo in casa fondamentalmente prego grazie per l'attenzione passo la parola a Patrizia Massimiliano grazie mille e nel caso ci ricolleghiamo con te nella parte finale per altre risposte sei stato già bravissimo a includerle tutte nella tua comunicazione allora una rapida risposta a chi dice che sente male che si sta allora noi sentiamo bene non abbiamo problemi di collegamento anche se qui non so da voi ma a Roma siamo sotto proprio una tempesta lampituoni e fulmini stiamo pregando che tutto anche da qui si vede però casomai il consiglio è sempre lo stesso uscite e rientrate se avete problemi di audio soprattutto allora do la parola a Dario Basti che ci parla delle linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT altro tema molto caldo interessante Dario ci sei? mi sentite? provi a parlare benissimo grazie buon pomeriggio a tutti e benvenuti a quest'ultima sessione di webinar sulla sicurezza informatica nella pubblica amministrazione ci siamo già sconosciuti nel primo webinar parlando di vulnerabilità software oggi vediamo insieme la sicurezza nel procurement ICT questa linea guida che è stata emanata da Agid approfondiremo alcuni aspetti riguardanti diciamo le attività che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere quando decino di fare acquisti di apparati o di servizi di sicurezza cerchiamo di capire il contesto di questa linea guida prendendo l'ultimo rapporto del CRUSIT l'ultimo rapporto del CRUSIT ci dice che hanno rilevato nel corso degli ultimi 12 mesi un incremento di attacchi veicolati tramite l'abuso della supply chain ovvero tramite la compromissione di terze parti il che consente a criminali e spie di colpire i contatti clienti fornitori partner con l'obiettivo quindi di andare a colpire la pubblica amministrazione un esempio è se vado a memoria dicembre dell'anno scorso un attacco ai sistemi americani attraverso la compromissione di una piattaforma SolarWinds che era una piattaforma per il monitoraggio che offriva i servizi diciamo di monitoraggio della rese quindi è stato compromesso sostanzialmente un fornitore per veicolare l'attacco verso ai sistemi di difesa del governo americano la linea guida la sicurezza del procuramento in IST qual è la genesi e l'ambito di questo documento questa linea guida nasce da un tavolo di lavoro voluto dal dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la presidenza del consiglio che ha lavorato dal novembre 2018 al febbraio 2019 e a questo tavolo hanno partecipato come vedete nella slide oltre ad agi di principali ministeri la protezione civile e la presidenza del consiglio quindi il frutto di questo tavolo di lavoro è stata una bozza di questa linea guida che è stata emanata ai sensi dell'articolo 71 del CAD l'articolo 71 del CAD prevede per l'emanazione di una linea guida i seguenti passaggi il primo passaggio è dopo che il tavolo di lavoro ha redatto la bozza del documento questo documento viene messo in consultazione pubblica per un mese dove vengono ricevite tutte le indicazioni suggerimenti anche da privati cittadini il sito è Docs Italia dove vengono pubblicate tutte le bozze delle linee guida che agi demana ai sensi dell'articolo 71 del CAD dopo un mese di consultazione pubblica agi valuta se recepire alcuni suggerimenti dalla consultazione pubblica e il passo successivo è quello di mandare la linea guida alla conferenza Stato-Regioni successivamente in Commissione Europea e infine al Garante per la Privacy terminato questo iter che dura circa 12 mesi la linea guida viene pubblicata ai sensi dell'articolo 71 del CAD in gazzetta ufficiale e quindi diventa obbligatoria finalità del documento qual era l'obiettivo del gruppo di lavoro nella redazione di questa linea guida era quella di cercare di illustrare nella maniera più semplice possibile e immediatamente fruibile infatti questa linea guida non è molto corposa sono circa 30 pagine che cercano di dare suggerimenti e best practice alle pubbliche amministrazioni su come guidare sia la fase di pre-procurement cioè prima di avviare un processo di procurement sia di come gestire il processo di procurement che vorrei proprio quindi la scrittura dei requisiti di sicurezza dei requisiti di gara e sia come gestire il contratto durante la sua esecuzione infatti un allegato di questa linea guida sono proprio una serie di requisiti di sicurezza che noi abbiamo inserito catalogati rispetto alla tipologia di acquisizione mi spiego meglio se stiamo acquisendo un applicativo software se stiamo acquisendo un dispositivo o se stiamo acquisendo servizi di sicurezza andiamo avanti l'obiettivo l'obiettivo è chi ha rivolto questo documento è rivolto a voi sostanzialmente dirigenti funzionari delle pubbliche amministrazioni RUP che si occupano di gare pubbliche responsabili della transizione al digitale ma sono diciamo per quanto riguarda le singole pubbliche amministrazioni delle indicazioni vincolanti per i ministeri gli enti centrali le regioni e le città metropolitane mentre devono essere visti come dei soggenimenti buone pratiche procedure a cui far riferimento per quanto invece riguarda le restanti amministrazioni che hanno delle dimensioni un po' più piccole e infine sono anche diciamo rivolte ai fornitori che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni quindi che partecipano ai bandi di gara con diciamo delle pubbliche amministrazioni come è strutturato questo documento questa linea guida è strutturata in cinque capitoli più un appendice noi oggi in questa presentazione ci focalizzeremo in particolare sul capitolo 2 che contiene le indicazioni per le amministrazioni oltre al capitolo 2 la linea guida contiene il capitolo 3 che contiene le indicazioni per Agile sul tema per quanto riguarda i pareri sulle gare strategiche le indicazioni per le centrali di committenza contenute nel capitolo 4 quindi riguardo la CONSIP capitolo 5 è un capitolo che riguarda la protezione dei dati personali e infine come vi dicevo prima c'è l'appendice A che invece riguarda c'è un appendice con i requisiti di sicurezza ammissibili che vedremo nel dettaglio in qualche slide successiva iniziamo con analizzare il paragrafo diciamo il capitolo 2 e il paragrafo i vari paragrafi quindi le azioni da svolgere prima della fase di procurement quindi classificare i sistemi per criticità definire delle metodologie piani di contingenza vedremo nel dettaglio successivamente le azioni da svolgere durante la fase di procurement quindi nel paragrafo 2.2 e le azioni da svolgere dopo la stipula del contratto con il fornitore azioni da svolgere prima della fase di procurement sono sette azioni che la linea guida classifica come AG1 AG2 fino ad AG7 la prima azione che la linea guida suggerisce è quella di promuovere competenza e consapevolezza all'interno della propria pubblica amministrazione come fare questo quindi la pubblica amministrazione dovrebbe uso il condizionale di disporre di personale che è competente per quanto riguarda il procurement management la gestione dei progetti risk management sicurezza e protezione dei dati quindi dovrebbe anche fare awareness su questi temi fare dei percorsi formativi di sensibilizzazione quindi fare formazione verso il personale che si occupa di queste tematiche quindi organizzando eventi tematici seminari come questo quindi per diffondere la cultura della sicurezza informatica a tutti i propri dipendenti azione AG2 è quella di raccogliere buone prassi ed esperienze se in precedenza nella vostra amministrazione avete realizzato dei processi di effettuato delle gare dei processi di procurement è bene mettere a fattor comune sia le famose lesson learned sostanzialmente cosa è andato male quindi cosa non ripetere dove abbiamo sbagliato ma anche cosa è stato fatto bene è anche buona pratica magari scriverlo e replicarlo nelle successive acquisizioni azione AG3 è l'azione che io ritengo diciamo più importante nella fase di pre-propurement è quella che riguarda lo stabilito dei ruoli e responsabilità per quanto riguarda tutta la gestione del processo di procurement quindi definire all'interno della propria struttura ruoli e responsabilità connesse con la sicurezza del procurement quindi indicando profili idoni e assegnando incarichi formali alle varie figure individuate come vi dicevo prima la linea Vira vi suggerisce anche uno strumento su come fare come fare a stabilire ruoli e responsabilità che è una matrice per esempio qua una matrice RACI VS noi abbiamo riportato l'esempio dove sulle righe sono le azioni generali di questa linea guida e come vedete sulle colonne ci sono i vari ruoli che prendono parte al processo con le varie figure scusate che prendono parte al processo con i rispettivi ruoli di responsabile accountable da consultare da informare e la matrice RACI VS aggiunge chi anche verifica il risultato il ruolo e il risultato dei criteri di accettazione e chi appone la firma diciamo finale quindi questo è un suggerimento ogni chiede libero di usarne altri però tipicamente la matrice RACI VS viene dai processi di project management è molto utilizzata per quanto riguarda stabilire ruoli e responsabilità nei processi azioni a G4 effettuano le condizioni dei beni informatici e dei servizi prima di avviare qualsiasi fase diciamo qualsiasi processo di procurement è bene fare una sorta di assessment al proprio interno cioè cercare di capire che cosa io ho in casa che cosa è obsoleto che cosa necessariamente devo necessariamente acquistare e quindi dare una priorità anche ai miei acquisti quindi devo sostanzialmente fare un inventario aggiornato nei miei beni informati definiti asset definire chi è responsabile del singolo asset ma cosa ancora più importante devo anche creare un catalogo asset servizio cioè quell'asset quegli asset che tipo di servizio mi permettono di erogare e fare un mapping tra questi due questi due cataloghi e mantenerlo continuamente aggiornato fatto questo la successiva azione AG5 si basa sull'azione AG4 e quindi mi va a classificare i miei asset i miei servizi i miei beni rispetto in termini di criticità rischi minacce e vulnerabilità se una mia applicazione è obsoleta non sono presenti più aggiornamenti di sicurezza sicuramente dovrà essere diciamo bonernizzata oppure dovrà essere aggiornata e manutenuta con maggiore velocità rispetto a un'applicazione che magari è stata sviluppata più di recente azione AG6 riguarda la definizione della metodologia di audit e valutazione del fornitore in materia di sicurezza questo significa che se io voglio fare degli audit al mio fornitore devo nella fase di pre-procurement definire come farli devo definire gli obiettivi la periodicità di questi audit sulla base di quale ISO vado a fare questi audit questo perché deve essere fatto nella fase di pre-procurement perché poi io lo devo andare a inserire nella fase di gara cioè quando vado a scrivere il capitolato in coerenza con l'azione AG6 l'azione AG7 dice di definire una metodologia di audit interna in materia di sicurezza ossia come faccio l'audit verso il fornitore anche io al mio interno dovrei definire una metodologia di audit per effettuare degli audit interni tipo compliance al GDPR il collega prima citava la direttiva NIS se alcune pubbliche amministrazioni rientrano nella direttiva NIS andiamo avanti e alla fine di ogni paragrafo viene riportata diciamo una tabellina che mi permette di fare un assessment su come sono messo in relazione alle sette azioni di pre-procurement indicate dalla linea guida con delle semplici risposte sì no parziale è possibile rispondere diciamo vedere fare una sorta di assessment dice ma io faccio formazione utilizzo già una matrice RACVS quindi mi permette di valutare come sono messo per quanto riguarda queste sette azioni generali passiamo ora le azioni da svolgere durante la fase di pre-procurement quindi da 1 le azioni a P1 cioè analizzare la prima azione è quella di analizzare la fornitura e classificarla in base a criteri di sicurezza perché è importante classificare la fornitura la criticità della fornitura perché poi questa criticità questo livello di criticità della mia fornitura serve per decidere la tipologia di acquisizione che io devo andare a fare noi qua suggeriamo alcune criteri per stabilire la criticità di un'acquisizione che possono essere la dimensione in termini finanziari di un'acquisizione la durata temporale se un contratto che dura più anni e che dove si susseguono più fornitori potrebbe essere critico la sede dove verrà installato il bene se il bene verrà installato in un CED per erogare un servizio critico allora anche il processo di acquisizione è critico come si calcola il calcolo della criticità di acquisizione qui noi abbiamo suggerito di utilizzare banalmente una sorta di matrice pesata e quindi valutare sostanzialmente dando dei pesi alle varie domande cioè l'acquisizione impatta su bene o servizi critici l'importo e più in generale l'investimento complessivo dell'acquisizione supera la soglia minima di criticità la durata del contratto da stipulare supera scusate un secondo la soglia minima di criticità bevo un secondo la serie dove verranno erogate le prestazioni da acquisire quindi verrà installato in un CED quindi è critico con degli esempi io riesco sostanzialmente a dare a calcolare la mia criticità di livello di criticità della mia acquisizione ripeto questo è un esempio che una pubblica amministrazione può adottare ma anche ampliare rispetto alle proprie caratteristiche a che cosa mi serve l'azione precedente AP1 l'amministrazione quindi deve tenere conto dei risultati dell'AP1 per scegliere lo strumento di acquisizione migliore cui avvalersi tra quelli disponibili in relazione al codice degli appalti e alla normativa applicabile quindi lo strumento io decido in base alla criticità della mia acquisizione se utilizzare il MEPA se utilizzare un accordo quadro oppure se fare una gara specifica come vedete si vede un po' piccolo forse qua è stato diagrammato anche come diciamo orientarsi nella scelta degli strumenti di acquisizione quindi in base all'azione AP1 quindi al livello di criticità se il mio livello di criticità è basso o medio io vado a vedere mi sposto se esiste un bando MEPA che soddisfa i miei requisiti di sicurezza se questo esiste io posso procedere all'acquisizione mediante il bando MEPA se non esiste il bando MEPA oppure se la mia criticità il livello di criticità è alto vado a vedere se esistono degli accordi quadro dove i miei requisiti di sicurezza sono rispettati in questo caso posso fare un appalto specifico all'interno di un contratto quadro se neanche questo è applicabile e devo avviare una gara specificando i requisiti di sicurezza quindi andando a definire i requisiti di sicurezza che mi servono per la mia applicazione e per il mio dispositivo come faccio a definire i requisiti di sicurezza come faccio a scegliere i requisiti di sicurezza da inserire nel capitulato come vi dicevo prima la nostra linea guida in appendice ha una serie di requisiti sia di tipo generico che devono essere inseriti all'interno di un capitolato di gara e che riguardano requisiti minimi di sicurezza standard di riservatezza GDPR audit sia dei requisiti specifici che sono classificati e catalogati in base alla tipologia di acquisizione che sto facendo cioè se sto acquisendo servizi di sviluppo applicativo oggetti connessi in rete o servizi di gestione remota quindi in appendice trovate dei suggerimenti sui requisiti o su come scrivere un requisito per queste tre tipologie di servizi azione AP4 riguarda invece le garantie delle competenze di sicurezza della commissione di valutazione al tempo di rastitura di questa linea guida l'albo ANAC ancora era operativo da quello che mi risulta a me l'albo ANAC è stato sospeso quindi ad oggi ancora operativo noi abbiamo indicato quindi sostanzialmente se l'albo ANAC ancora diventa operativo di come suggerimento di scrivere per quanto riguarda la commissione di valutazione di scrivere i requisiti di sicurezza nella gara in maniera chiara oggettiva e quando più possibile esaustivi in modo da permettere ai commissari di procedere a una valutazione corretta dell'offerta tecnica del fornitore perché se il mio requisito è scritto in modo chiaro in modo che io possa attribuire dei punteggi rendiamo la vita facile ai commissari nella valutazione delle varie offerte del fornitore oppure per le acquisizioni classificate come critiche si può applicare l'articolo il comma 3 bis dell'articolo 67 del codice dei contratti in cui la stazione appaltante può individuare ed inserisce nella commissione un esperto di sicurezza informale questo ripeto nelle more del famoso albo anac che deve essere che dovrebbe uscire anche qui c'è una sorta di checklist delle azioni in fase di pre-cocure che permette alla singola amministrazione che vuole adottare queste linee guide di fare un proprio assessment su come è messa diciamo su queste quattro azioni delle fasi di procurement passiamo all'ultima fase che è le azioni da svolgere dopo la stipula del contratto sia in esecuzione o a posteriori sono 13 azioni come vedete in questa tabella sono classificate per tipologia di fornitura come vedete l'azione A1 si applica a sviluppi MEV a operation e conduzione e non a servizi diversi e di acquisizione di prodotti quindi in base alla tipologia di acquisizione che state effettuando già avete uno specchietto su quale di queste azioni dovete andare ad eseguire prima azione gestire le utenze dei fornitori è importantissimo che se una volta stabilito il contratto con il fornitore il fornitore deve avere delle proprie utenze per accedere all'interno della mia amministrazione sia utenze fisiche sia utenze logiche per quanto riguarda l'accesso ai sistemi della mia amministrazione quindi azione A2 gestire l'utilizzo dei dispositivi di proprietà del fornitore se io durante nel capitolato ho previsto che il fornitore poteva utilizzare dei dispositivi proprietari suoi diciamo portarsi il fornitore può portarsi il proprio portatile magari ho definito che il portatile però deve avere dei standard di sicurezza deve essere crittografato per esempio devo andare a gestire questi dispositivi anche quando vengono connessi alla rete dell'amministrazione quindi l'accesso alla rete dell'amministrazione dovrebbe essere fatto su una VLAN o segmentando la rete non dando l'accesso al fornitore a tutti i dispositivi presenti nella LAN dell'amministrazione stessa cosa azione A4 per quanto riguarda l'accesso ai server ai database non possiamo far accedere il nostro fornitore durante uno spiluppo applicativo all'interno database che riguarda lo sviluppo dell'applicazione ma è buona pratica fare uno snapshot fare una copia di quel database e purare eventuali dati sensibili dati critici quindi lasciare solo i dati che sono necessari per il buon funzionamento dell'applicazione che si intende realizzare quindi avere una copia dei dati che permetta al fornitore di sviluppare l'applicazione ma questi dati sono sostanzialmente fake ma permettono però di realizzare l'applicazione stipulare accordi di autorizzazione riservatezza e confidenzialità col fornitore quindi l'amministrazione deve sviluppare accordi di autorizzazione di clearance di riservatezza quando diciamo il fornitore tra virgolette entra in casa della pubblica amministrazione azione A6 riguarda il rispetto delle prescrizioni di sicurezza nello sviluppo applicativo quindi sostanzialmente il monitoraggio se ho previsto nel capitolato che il mio fornitore doveva utilizzare determinati web server determinate tecnologie determinati processi di sviluppo devo andare a verificare se il fornitore sta effettivamente facendo questo azione A7 devo monitorare l'utenza e gli accessi dei fornitori se si susseguono durante la vita del contratto più fornitori io devo monitorare devo staccare l'utenza del vecchio fornitore e devo abilitare l'utenza del nuovo fornitore A8 verificare la documentazione finale di progetto quindi verificare però alla fine di ogni singolo progetto che la documentazione finale è completa che c'è il manuale di installazione che ci sono il report degli assessment di sicurezza cosa molto importante che abbiamo anche citato nella precedente presentazione quando c'è una realizzazione di un sviluppo applicativo bisogna richiedere al fornitore sempre la realizzazione di un vulnerability assessment che come dicevo l'altra volta non termina quando l'applicazione va in produzione ma deve essere svolto come vedremo nell'azione successiva periodicamente e poi qua suggeriamo anche di farsi dare al fornitore un libretto di manutenzione del prodotto sostanzialmente come avviene un po' con l'autovettura con la caldaia il fornitore deve fornirmi tutte le indicazioni dove andare a reperire gli aggiornamenti di sicurezza come installare le patch tutte le indicazioni che mi permettono a mia amministrazione di mantenere correttamente aggiornata in termini di sicurezza la mia applicazione a 9 effettuare la rimozione dei permessi dei provisioning al termine di ogni progetto è collegata l'azione a 6 precedente e quindi riguarda il deprovisioning delle utenze bisogna porre attenzione che molto spesso molti attacchi avvengono perché magari abbiamo lasciato l'utenza del fornitore abilitata quando il fornitore è scaduto il contratto e non deve più accedere alla rete dell'amministrazione occhio soprattutto a utenze VPN che permettono l'accesso dall'esterno azione a 10 aggiornare l'inventario dei beni una volta che ho realizzato e acquisito il mio prodotto devo andare ad aggiornare l'inventario che ho creato all'inizio nelle azioni di preco-cune il famoso catalogo in modo da mettere nei miei processi di patch management nei miei processi di gestione la nuova acquisizione l'azione a 11 riguarda sostanzialmente la distruzione del contenuto e quindi riguarda il procurement per quanto riguarda attività di conduzione se io previsto per il CED il mio fornitore mi viene a sostituire in caso di guasto per esempio degli hard disk io devo richiedere al fornitore la distruzione logica del contenuto dell'hard disk che si è guastato in modo che quei dati non vengano portati fuori dall'amministrazione la manutenzione azione a 12 aggiornamento dei prodotti che deve essere costante quindi eseguire costantemente l'abbiamo visto con le vulnerabilità software eseguire costantemente vulnerability assessment periodici eseguire aggiornamenti di sicurezza non appena vengono rilasciate delle patch per quanto riguarda i miei sistemi azione a 3 vulnerability assessment come dicevo prima soprattutto per i sistemi che sono classificati come critici e quindi dare fare dei vulnerabilità assessment periodici per valutare il grado di sicurezza della mia applicazione del mio dispositivo finisco con questa tabella che riporta un impatto per le amministrazioni di questa linea guida abbiamo cercato di classificare un possibile impatto applicativo di questa linea guida sulle singole amministrazioni la maggior parte come vedete di queste azioni hanno un impatto basso quindi si fanno sostanzialmente con carte e penna applicando un po' di metodologie alcune hanno un impatto un po' più alto faccio un esempio il monitoraggio del contratto per una piccola amministrazione è un po' più complesso che per una grande amministrazione ma la maggior parte di queste attività si svolgono diciamo con un effort abbastanza basso per le singole amministrazioni io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Patrizia allora grazie mille Dario abbiamo recuperato i minuti mancanti della tua comunicazione quindi siamo arrivati a 30 io andrei in pausa vi chiederei però lo stesso di tornare alle 15 e 40 perché abbiamo la comunicazione successiva di Michele Petito a cui non vorrei togliere tempo se siete d'accordo rinunciamo a due minuti va bene allora le 15 e 40 dopo la pausa caffè grazie do una pausa caffè un po' più breve per lasciare lo spazio a Michele Petito di sviluppare la sua comunicazione le linee guida sullo sviluppo software sicuro prova a parlare Michele così vediamo se ti sentiamo benissimo ok buona comunicazione grazie Patrizia ok buongiorno a tutti io sono Michele Petito funzionario Agid sono parte del team del CERT da quando eravamo già a CERT PA attualmente mi occupo del monitoraggio di campagne malware phishing in particolare quelle che impattano la PA italiana e ho supporto molte attrattività del CERT e oggi vi parlerò delle linee guida per lo sviluppo del software sicuro e le linee guida sono state emanate da Agid e si inseriscono nel quadro complessivo delle linee guida per la sicurezza e CT della PA l'obiettivo è fornire un'architettura di sicurezza per la difesa dei servizi e dei dati gestiti da un sistema informativo della pubblica amministrazione le linee guida sono strutturate in quattro allegati tecnici il primo riguarda l'adozione di un ciclo di gruppo software sicuro e il secondo allegato entra invece nella programmazione e spiega come scrivere il codice sicuro è andata avanti da solo ok ok qua ok quindi diciamo amo appunto il secondo allegato quindi entra più nella programmazione e in particolare entra nei dettagli dello specifico linguaggio e in particolare a paragrafo set di questo allegato vengono fornite best practice sul C Java PL SQL Python e altri linguaggi il terzo allegato riguarda invece gli elementi di configurazione del software la configurazione del software è infatti una parte importante della sicurezza informatica e tutti sappiamo quanto può essere pericoloso lasciare ad esempio le password di un database macicolo o di qualsiasi altro software in questo allegato vengono fornite best practice specifiche per i software in base quindi sistemi operativi database browser applicativi di office automation e altro infine il quarto allegato definisce come modellare le minacce e individuare le azioni di mitigazione conforme ai principi di privacy e secure by design e queste linee guida possono essere scaricate dal sito web di acido ovviamente nella parte nella sezione linee guida in alto a destra e da lì troviamo la sezione sicurezza informatica con i quattro allegati pdf a questa stessa pagina possiamo arrivare anche tramite il sito del tool risk assessment il primo allegato come abbiamo detto riguarda l'adozione di un ciclo di sviluppo software rendere un software sicuro è fondamentale visto che il 75% degli attacchi secondo una ricerca Gartner è rivolto proprio alle applicazioni le applicazioni sono infatti l'obiettivo principale degli attaccanti in quanto dietro di esse si trovano i dati da infiltrare dati che poi possono essere riutilizzati in altre campagne malevole o rivendute su black market e quindi dotarsi di apparati di protezione di rete non è sufficiente perché se le applicazioni sono vulnerabili tale vulnerabilità potrebbero essere sfruttate dagli attaccanti per compromettere i vostri sistemi in questa semplice slide vediamo un server protetto da firewall e come vedete le uniche porte aperte sono la 80 ovvero la HTTP la 443 la HTTPS e una volta erano molte più porte aperte capitavano spesso appunto attacchi proprio per questo motivo perché molte porte oltre a quelle web diciamo erano aperte e venivano sfruttate oggi quindi gli attaccanti che cosa devono fare per arrivare ai dati e le sfiltrarle devono attaccare ovviamente le applicazioni in particolare in questo caso le web application e come fanno cioè devono sfruttare un qualche bug o una configurazione di queste e qui parliamo appunto di vulnerabilità e la comunità OWASP ovvero l'Open Web Application Project è uno dei punti di riferimento per la sicurezza informale e il best practice sottolinea la necessità di accrescere la consapevolezza sulla sicurezza e delle applicazioni e questo perché il software non sicuro può mettere a repentaglio le strutture più critiche come quelle finanziarie sanitarie e della difesa e nella slide ho evidenziato i numeri di CVE e detels che evidenza un trend in crescita riguardo il numero di vulnerabilità censite ormai da più di 20 anni a proposito di vulnerabilità nel nostro sito potete trovare vulnerabilità censite scusate più sfruttate nella giornata c'è da dire che queste non sono necessariamente legate alle applicazioni ma sono anche relative a dispositivi di rete come root firewall e quant'altro e quindi proteggere per proteggere il nostro sistema formativo dobbiamo adottare un approccio detto defense in depth ovvero difesa in profondità ovvero dobbiamo disporre di meccanismi di sicurezza per ogni sua componente a partire dallo strato fisico come vedete nella parte destra della pila e fino ad arrivare alle applicazioni e ai dati tale approccio è di derivazione militare e si basa sull'assunto che se le protezioni di uno di questi strati fallisce altri meccanismi di sicurezza possono intervenire sugli altri strati e ora una misura fondamentale per contenere le minacce e ridurre il rischio e ovviamente sviluppare applicazioni prive di vulnerabilità ma ovviamente anche questo non è possibile perché la sicurezza al 100% non esiste ma comunque dobbiamo assicurarci che almeno non siano presenti le vulnerabilità più importanti e quali sono queste vulnerabilità più importanti sono quelle per esempio queste che ho evidenziato nella slide dell'OVASP top 10 mostra proprio le più le più importanti le più diffuse in particolare sono quelle più diffuse nel 2017 e nel 2021 queste ultime sono state proprio scensite proprio ultimamente ogni riga contiene in realtà non proprio non contiene una singola vulnerabilità ma un set di vulnerabilità particolare ad esempio vedendo la classifica del 2021 che sarebbe appunto il broken access control questo in realtà è un insieme di cosiddetto CVE che sono common weak numeration cioè una serie di debolezze del codice che possono poi portare vulnerabilità alla vulnerabilità vera e propria cioè la CVE la common vulnerability enumeration quindi fondamentalmente la prima il broken access control quindi che cos'è è un insieme di vulnerabilità in particolare che contiene 34 CVE in particolare la CVE 79 cioè la cross-site iscritti il noto anche come con l'acronimo di XSS e poi la CVE 89 che è la C conjection la seconda categoria di vulnerabilità più sfruttata è la sono quelle delle cryptographic frelius una volta erano definite semplicemente come esposizione di dati sensibili in realtà l'esposizione di dati sensibili è solo un sintomo e la causa di questa esposizione di dati è in realtà dovuta ad errori che riguardano l'uso di cartografia ad esempio cifrare le password per i.m.5 è un errore come configurare in maniera errata i server web utilizzando ad esempio il protocollo TLS o cifrare i deboli ovviamente TLS intendo la versione 1.0 1.1 che non sono più supportate su quest'ultimo punto tra l'altro invito tutti ad utilizzare i nostri tool di self-assessment che abbiamo messo in campo da pochi giorni e in questo modo potrete capire se ci sono debolezze sulla configurazione del TLS e CMS del sito web istituzionale oltre a seguire le best practices e bene comprendere le minacce più comuni e considerare le problematiche di sicurezza fin dalle prime fasi del ciclo di sviluppo questo ciclo è detto Secure Software Development Life Cycle tale modello considera lo sviluppo del software nelle fasi di analisi di progetto di sviluppo test fino alla manutenzione queste attività è indelogabile per mitigare i rischi di sicurezza e in generale ridurre i costi che avremo in caso di incidente allora passiamo ora all'allegato 2 qui abbiamo un elenco di best practices da seguire per prevenire le problematiche di sicurezza del codice e ciò rappresenta anche lo strumento utile per la ricerca di possibili vulnerabilità e contromisure da adottare in particolare nel capitolo 4 dell'allegato 2 viene presentato un modello concettuale degli elementi come quelli mostrati nella figura a destra e questi elementi devono essere presi in considerazione quando trattiamo di sicurezza in sostanza si ripete un concetto da detto cioè che un'applicazione è sicura è il risultato di contromisure che sono applicate nelle diverse fasi del ciclo di sviluppo ad ogni quindi livello logico e fisico e quindi ad esempio a livello di rete dovrò adottare delle regole su prodotte e sul firewall a livello applicativo dovrò gestire la validazione degli input la corretta configurazione degli applicativi la crittografia dei dati sensibili la gestione dei log e così via al capitolo 5 sempre dell'allegato 2 ci fornisce alcune direttive di progettazione e di sviluppo di un'applicazione un'applicazione deve essere sviluppata innanzitutto seguendo i paradigmi standard industria software ad esempio il modello dell'architettura monolitica quello di tipo client server o l'architettura orientata ai servizi un'altra direttiva importante per garantire un adeguato livello di sicurezza applicativo e infrastrutturale riguarda l'esecuzione di analisi preliminare e la modellazione delle minacce sugli applicativi e delle interfacce riguardo la sicurezza a livello di architettura del sistema si adotta un approccio di tipo secure by design per le applicazioni ex novo mentre per le applicazioni già esistenti si esegue una reingenerizzazione ovvero si adotta un approccio di tipo security control sempre nel legato 2 capitolo 5 troviamo i criteri generali per lo sviluppo di un'applicazione per esempio riguardo la performance si consiglia di non ottimizzare manualmente un'applicazione se questa può essere ottimizzata dal compilatore non usare which case al posto di strutture edificate di if allogare memoria più tardi possibile eccetera eccetera per le password si raccomanda di non inserirle mai all'interno del codice sorgente questo così come qualsiasi altro dato come lo username nome di B URL e quanto tutto questo ovviamente può consentire l'accesso diretto ai dati e utilizzare sempre il criterio di privilegi minimi di esecuzione cioè un'applicazione avviata all'interno del sistema operativo non deve essere lanciata con i privilegi amministrativi e evitare l'uso di backdoor amministrativi perché potrebbero presentare una pericolosa porta d'accesso per gli attaccanti e un altro criterio importante è la validazione degli input se nell'anagrafica per esempio faccio un esempio e presento un campo della rinascita l'utente dovrebbe poter inserire solo la rinascita valida nient'altro tutto il resto dovrebbe essere negato riguardo la formattazione la sintassi ogni dichiarazione di funzione classe metodo deve sempre precedere un commento che include parametri di input output e la data di ultima modifica inoltre per rendere l'applicazione conforme agli standi internazionali è richiesto l'uso di algoritmi conosciuti scusate riconosciuti dal mondo dell'industria allora tutte queste sono una parte ovviamente che è contenuta nell'allegato ce ne sono veramente tanti riguardo per esempio la gestione del password e chiavi queste devono essere memorizzate in un'area di storage differente da quella dell'applicazione è memorizzata sotto forma di hash ad esempio md5 sha1 sha256 naturalmente prevedere sempre l'introduzione di un elemento randomico come salt e il presente capitolo fornisce una vista delle principali vulnerabilità e delle relative contromisure contromisure contestualizzate per ogni specifica area di sviluppo tipo cc c++ java e altri linguaggi e ad esempio per difendersi degli attacchi tipo xss bisogna convalidare tutti gli input in base a una white list di valori ammessi controllare anche dimensione tipo formato dei dati in input in base al contesto per contesto intendo se noi abbiamo un input html dobbiamo ovviamente aspettarci di controllare dei tag html e quindi una cosa simile si fa anche per il code injection è un attacco che si verifica questo code injection quando l'applicazione utilizza string in input con catenate non bonificate e per evitare questi attacchi bisogna evitare di eseguire codice dall'esterno magari prevedendo anche qui una white list di valori ammessi l'esempio mostrato è realizzato sempre in linguaggio java uso il java perché ho usato il java in passato molto ma ci sono altri linguaggi con tanto di esempi nell'allegato nella parte sinistra abbiamo il codice vulnerabile e a destra il codice corretto che utilizza una white list qui abbiamo l'allegato 3 e dove nell'allegato 3 parliamo invece di linee guida per la sicurezza del software di base applicativo in particolare parliamo dell'hardening ovvero della messa in sicurezza dei sistemi operativi dei web browser della postazione di lavoro database mail server e dei principali applicativi di office automation vengono quindi fornite indicazioni sulla configurazione sicura di tali software che coinvolgono vari elementi come protezione perimetrali le architetture di rete le procedure organizzativi e i programmi formativi di security awareness entrando più nel dettaglio del documento l'allegato 3 ci fornisce un catalogo di massima delle minacce di sicurezza costruite sulla base dello stand ISO IEC 27005 del 2011 e l'ISO 27001 del 2013 alcune di queste minacce sono l'abuso di privilegi da parte dell'utente l'accesso non utilizzato alle informazioni il furto di credenziali la falsificazione dell'identità e ancora altre che non sto all'incarvi se no finiamo più al paragrafo 4.2 troviamo invece un elenco delle varie tipologie di attacco tra cui il brute force attack il back overflow il cross-site script e molti altri a paragrafo 5.1 abbiamo un elenco di raccomandazioni di tipo trasversale che riguardano un po' tutte le categorie di software e che rappresentano una base comune da cui partire per affrontare le problematiche di sicurezza e a paragrafo 6 vengono fornite istruzioni operative sull'hardware detto anche benchmarks e oltre alla baseline di configurazione e poi abbiamo anche alcuni tool per l'esecuzione di admin in queste immagini abbiamo due esempi di raccomandazioni tratte sempre dall'allegato ovviamente e come vedete per ogni minaccia viene fornita la relativa contromisura ad esempio per quanto riguarda l'accesso a non autorizzare i sistemi alle informazioni la concomissione di comunicazione la negazione di servizio il furto di informazione eccetera eccetera abbiamo come contromisura associata l'esecuzione almeno una volta all'anno di un vulnerability assessment in VA questo ci permette di individuare la vulnerabilità che possono costituire un canale di accesso alle informazioni poi abbiamo sul lato destro un altro esempio un altro caso che riguarda invece la minaccia di furto o la cancellazione di informazioni o negazione di servizi in questo caso abbiamo come contromisura l'esecuzione di copie di backup periodici stabilite a livello aziendale l'effettiva memorizzazione e leggibilità di tale backup deve essere poi verificata ovviamente questo capita non sempre purtroppo infatti è raro non è raro scusate che a momento in cui serve il backup ci accorgiamo che lo stesso risulta illegibile o addirittura non è effettuato a titolo sempre di esempio abbiamo altre due raccomandazioni e allora prima a sinistra riguarda l'article e pacchetto office relativamente alla minaccia accesso non utilizzato alle informazioni attacca l'integrità dei sistemi violazione della sicurezza come contromisura viene indicato di limitare o disabilitare l'uso di contenuti attivi come ad esempio activix e com e altri componenti che siccome ben sappiamo anche da le campagne mobile possono effettivamente essere sfruttati in un attacco abbiamo poi un altro esempio a destra una raccomandazione che riguarda i browser per evitare attacchi di integrità dei sistemi la cancellazione o il furto di informazioni viene raccomandata come contromisura la modifica della configurazione dei furti che spesso non è quella più sicura l'ultimo allegato il quarto ci parla invece di modellazione delle minacce e individuazione dell'azione di mitigazione conforme ai principi di security e privacy by design il documento come da struttura fornisce a capitolo 5 concetti base di security e privacy by design a capitolo 6 definisce le linee guida per l'identificazione delle minacce e a capitolo 7 fornisce un caso d'uso questo è detto easy website in questo caso d'uso vengono applicate le metodologie e gli strumenti indicati al capitolo 5 nei primi paragrafi del capitolo 5 vengono introdotti alcuni framework di processo che sono del riferimento nello sviluppo sicuro delle applicazioni quali bsa sam bsim clasp e in particolare le sdl di microsoft di quest'ultimo possiamo osservarne in figura i 7 step che vediamo qua scusate sì ok abbiamo è andato a finire quadroppo ok sì ok sì ok quindi diciamo che uno degli aspetti chiari dell'sdl è l'introduzione del threat modeling della fase di progettazione ciò promuove l'individuazione preventiva delle vulnerabilità presenti nelle applicazioni e persino i potenziali difetti di progettazione tale informazione vengono poi utilizzate per attuare i piani di mitigazione o modifiche progettuali tale modello può essere usato anche con le classiche metodologie di sviluppo waterfall e agile e può essere applicato a qualsiasi piattaforma e implementato da qualsiasi organizzazione indipendentemente dalla sua dimensione il modello di metodologia di modellazione delle minacce proposto da microsoft è detto stride che ha un cronico molto lungo non ve lo sto a leggere al termine dell'attività stride viene prodotto un elenco di vulnerabilità e tale vulnerabilità vengono successivamente classificate secondo un indice di priorità basso medio alto utilizzando un'analisi qualitativa del rischio attraverso un modello di microsoft detto dread poi l'analisi stride dread definisce al fine al termine la priorità delle contromisure da adottare e o indirizzare verso un eventuale penetration test a paragrafo 5.2 viene definito le security by design questo è un concetto base dell'ingegneria del software security by design definisce il software progettato per essere sicuro e capace di garantire riservatezza integrità e disponibilità alcuni dei principi base del security design si possono sintetizzare nei seguenti punti ridurre al minimo la superficie di attacco ovvero evitare di aggiungere funzioni all'applicazione non necessarie in quanto queste possono introdurre una certa dose di rischio stabilire valori predefiniti sicuri e in questo modo si fornisce all'utente una base sicura da cui partire o poi sarà la scelta dell'utente abbassare la sicurezza e aumentare il rischio non affidarsi ai servizi di terze parti cioè considerare i servizi esterni sempre come non sicuri separare il ruolo e segmentare la rete ridurre il single point of failure cioè evitare che l'interruzione di un singolo componente del sistema interrompa tutti gli altri servizi capitolo 5 ed è anche molte best practice in vari ambiti come per le applicazioni web il cloud le architetture serverless e sulle dlt in particolare registri distribuiti dette anche appunto dlt conosciute però anche soprattutto come blockchain sono questi sono sistemi informatici che gestiscono dati transazioni smart contract attraverso storage distribuito esistono diversi attacchi da cui possono essere vittime a blockchain ma quello più nota a tutti è quello del famoso attacco del 51% tipico del truth of work tale attacco cosa comporta comporta diciamo la possibilità di modificare la prossima transazione sostanzialmente bisogna però tenere conto che in realtà la maggioranza degli attacchi non avviene sull'infrastruttura cioè sulla blockchain stessa ma sulle applicazioni che girano sulla blockchain quindi per le applicazioni decentralizzate in particolare per il smart contract bisogna anche qui prevedere lo stesso ciclo di controllo di un qualsiasi altro software riguardo il capitolo 6 del legato 4 citiamo in particolare il 6 paragrafo 611 che spiega come individuare gli obiettivi di sicurezza questa attività è da svolgere come fase preliminare rispetto all'individuazione degli obiettivi di progetto ad esempio se i dati del profilo clienti li riteniamo dati riservati allora dovremo trovare un'achiviazione sicura in modo che l'accesso sia controllato e verificato come determinare però questi obiettivi di protezione ponendoci delle domande ad esempio quali dati proteggere esistono requisiti di conformità e altra domanda potrebbe essere esistono requisiti di qualità specifici per il servizio tali requisiti ovviamente comportano dei livelli prestazionali e di disponibilità che in caso di attacco possono venire meno un'altra domanda potrebbe essere esistono dei beni immateriali che devono essere protetti tra questi beni potrebbero essere c'è ad esempio la reputazione dell'azienda le informazioni sensibili la proprietà intellettuale è molto altro quindi da queste domande nasce poi l'obiettivo di protezione io con questo ho concluso forse leggermente prima passo la parola alla regia allora grazie mille a te Michele io approfitto di questo breve vantaggio che ci ha lasciato Michele per dire una cosa che già ho detto in chat cioè vi chiediamo di rispondere al questionario di cui trovate il link nella pagina di che vi è stata inviata oggi nella mail che vi è stata inviata oggi per collegarvi al webinar c'è un link e questo è il questionario di uscita vi sembrano le stesse domande perché sono le stesse domande che vi abbiamo fatto nel questionario di entrata come sapete questo progetto rientra nell'ambito dei finanziamenti del Pong Governance lo vedete da tutti i loghi che mettiamo sempre anche nelle slide è un adempimento che ci chiede proprio il Pong Governance di verificare in entrata e in uscita le conoscenze dei partecipanti ai nostri eventi formativi quindi io vi chiedo come diciamo unica 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 ricompensa al fatto che appunto potete fruire di questi cicli di webinar che come sapete Formez fa sempre in maniera gratuita di aiutarci a consegnare un numero elevato di questionari di entrata e di uscita soprattutto per questo webinar che appunto conta moltissimi iscritti e molti partecipanti perché oggi siete arrivati a essere 850 quindi ci aiutate mandandoci indietro il questionario compilato il questionario servirebbe anche a voi se fate onestamente il questionario in ingresso e poi lo rifate onestamente in uscita per capire un po' che cosa è cambiato rispetto a prima del corso e dopo il corso ecco questo rapidamente comunque vi ringrazio adesso ritorno a dare la parola ai nostri esperti perché ci sono delle domande che sono state evidenziate nella sezione domande a cui decidete chi vuole rispondere abbiamo tempo fino abbiamo 20 minuti quindi se vi gestite il tempo fra di voi abbiamo diciamo tempo a sufficienza per le domande che sono arrivate non si sente Max Similiano però ecco non ti sentiamo c'è l'audio disattivato leggete le domande il nome di chi ve le ha posto e così ognuno si riconosce sì scusate grazie Patrizia ho schiacciato un tasto qui sulla e dicevo velocissimamente rispondo a quelle diciamo della mia sezione Gabriele Milito chiede se come azienda privata può accedere al tool di risk assessment in realtà la nostra interfaccia è la pubblica amministrazione quindi fondamentalmente se fondamentalmente noi parliamo con la pubblica amministrazione non con le aziende private però se come dire se l'azienda privata ha un contratto di fornitura con la PA la PA a sua volta può incaricare formalmente l'impresa di farsi aiutare però in generale noi parliamo con le PA poi c'è Giovanni Romano che ci chiede quali sono i migliori programmi anti malware anti phishing freeware ce ne sono tantissimi fondamentalmente tutti sono meglio che non averli quindi potete orientarvi noi come cert non è che possiamo prediligere non possiamo orientare il mercato però fondamentalmente sono tutti molto buoni nel tool è prevista una sezione scusate Giuliano Gagliano nel tool è prevista una sezione per fare valutazione di impatto prevista al GDP nel tool c'è una sezione che diciamo valuta l'impatto del GDPR però sempre rispetto alla cyber security non è uno strumento che dà nessun tipo di bollino per GDPR Barbara Milani non ho capito se il funzionario che vuole iniziare a usare un tool deve in qualche modo registrare se stesso il proprio ente al funzionario che vuole iniziare a usare il tool deve necessariamente parlare col proprio ente e diciamo avviare un processo interno che decida che il funzionario è l'interfaccia verso il tool e fondamentalmente come ho già riveduto il tool di risk assessment aiuta a fare risk assessment accompagna le amministrazioni a fare cyber risk assessment però è self non come dire non ci sono attestati o bollini che il tool rilascia giorgio consoli buonasera abbiamo provato a contattarvi per ottenere il tool di risk assessment il tool non si ottiene il tool è web based e vedo che avete mandato sicuramente una richiesta quanto prima la la evaderemo grazie esistono indicazioni per qualificare l'esperto di sicurezza informatica nella scelta di un commissario di gara era proprio quello indicato nella slide ci stava lavorando l'albo ANAC con i commissari di sicurezza era proprio l'intento dell'albo ANAC quello di creare un albo di tutti gli esperti di sicurezza informatica a cui le pubbliche amministrazioni potevano attingere come commissari di gara questo ancora non è in vigore quello che si può suggerire che mi viene da suggerire è valutare magari se un eventuale commissario ha delle certificazioni inerenti esperienze certificazioni inerenti alla sicurezza informatica se è una certificazione come l'ID auditor per esempio basata su standard ISO o altre diciamo ISO certificabili Bruno Cittarella la voce oneri per la sicurezza nel MEPA si riferisce ancora alla sicurezza del salone non a quella informatica giusto se necessario uno specialista di sicurezza di T esterno per una commissione di gara d'appalto dove posso considerare gli oneri connessi allora sulla prima domanda sì se non ricordo male gli oneri nel MEPA sono quelli sulla sicurezza del lavoro per quanto riguarda la seconda parte della domanda se necessario specialista di sicurezza di T esterno o la commissione di gara di appalto se è una gara d'appalto quindi devo con gli oneri vanno sostanzialmente calcolati sul diciamo sull'importo della gara stessa quello di utilizzare un esperto esterno come dicevo nella slide da inserire nella commissione di gara vai Michele sì allora partiamo subito dalla prima allora io ho Arcia Carbonara che mi chiede ma alcune amministrazioni pubbliche come ad esempio l'università potrebbero realizzare da sole le proprie applicazioni che vengono usate dai più da vengono usate di più dai propri uffici sì sì assolutamente sì l'amministrazione pubblica in particolare l'università tra l'altro ho lavorato quindi 12 anni all'università in particolare l'università di Pisa noi facevamo realizzavamo software in casa diciamo e lo usavamo per i vari dipartimenti sia a livello centrale quindi per tutto il personale sia per il singolo dipartimento e quindi sì assolutamente e poi passo alla prossima domanda Emanuele Deriu o Deriu il resto non è un paradigma valido perché non si usa in Italia perché risulta che non si usa si resta ecco sembra assolutamente valido assolutamente e risulta anche che venga usato Maurizio Coppola quali tecniche metodi e o strumenti automatici consigli per testare la sicurezza di un servizio software e se la migliore tecnica è quella della composite application per esempio il team tigre il gruppo deputato alla sicurezza cosiddetto cosa devi usare guardi nelle allegate ce ne sono veramente tanti di tool dire qual è migliore o peggiore io do diciamo in generale consiglio innanzitutto di individuare le componenti critiche delle applicazioni cioè non è vero quelle che sono che espongono un'interfaccia verso l'esterno in particolare come dicevamo prima anche durante il webinar che eseguono un input che prendono un input dati dall'esterno e poi da lì nascono molte problematiche tipo xss cconjection e così via poi va bene ci sono ovviamente la parte generale con la parte più critica che sono quelle esposte all'esterno e niente diciamo poi come tool consiglio verificare una serie di tool che sono elencati proprio negli allegati particolare l'allegato 2 allora Maurizio Coppola vi chiede quali metodi procedure best practice casi d'uso suggerisci per assicurare l'allineamento tra l'evoluzione del software di base e le applicazioni in uso sviluppate in proprio customizzazione dei progetti open source personalizzazione di piattaforme proprietarie e tipo l'ifrey sharepoint per allineamento se intendi diciamo immagino l'allineamento intendi diciamo l'integrazione tra queste applicazioni diciamo di base e l'ifrey immagino intendi diciamo l'integrazione tra queste qua sinceramente ora su questo punto qua bisognerebbe un attimo approfondire magari meglio magari ne riparliamo direttamente se invece se voi dite le informazioni stavi leggendo quella di la prima per il personale tecnico Maurizio Coppola la prima no in generale è sempre un punto di equilibrio nel senso che internalizzare competenze competenze significa comunque una pubblica amministrazione fare concorsi e diciamo mettere in campo anche un tempo ben preciso per espletare tutte queste procedure per ottimità i costi invece di prendere qualche consulente diciamo sono comunque inferiori però i costi i tempi sono inferiori però i costi li evitano un po' quindi comunque è un equilibrio tra le due cose secondo me non so se sei d'accordo Michele sì sì assolutamente vedo poi a parte di altre domande a tempo io non so se per esempio lo sviluppo delle app sì esatto lo sviluppo delle app poi introduce evidenze altre criticità e vulnerabilità per la sicurezza quali piattaforme di sviluppo miticano i rischi e quali tecniche adottare nello sviluppo delle app ma allora si parla di piattaforme di sviluppo in che intendi dipende anche quale piattaforme quale applicazione devi sviluppare ovviamente consiglio sempre di utilizzare la piattaforma ufficiale di sviluppo ovviamente librerie standard ecco di utilizzare le ultime e quelle più aggiornate che sono legate al produttore ecco questo assolutamente questa sulla supply chain che rispondo io aggiungo un bit di informazioni più in più a quella precedente non è che se io diciamo sviluppo un'app o sviluppo un'applicazione web o sviluppo un'applicazione stand alone diciamo è tutto il processo di sviluppo che deve essere sicuro ci sono i principi di security by design e private by design da rispettare quindi non è che lo sviluppo di un'app è più sicuro rispetto a sviluppare un'applicazione web se l'app è sviluppata con criteri rispetto a standard di sicurezza sono sicure entrambe dal mio punto di vista tornando alla domanda sempre di Maurizio Coppola dagli attacchi alla supply chain la PIA potrebbe attingere elementi utili per aumentare la sicurezza del proprio patrimonio informativo allora sicuramente come dicevo nella prima slide gli attacchi alla supply chain stanno aumentando stanno aumentando e quindi perché? perché sostanzialmente si cerca sempre di andare a colpire l'anello debole della filiera cioè se io sono un'amministrazione governativa dove tutto diciamo da un punto di vista della sicurezza sono abbastanza protetto faccio come esempio l'acquisto di un dispositivo di un firewall e mi affido magari a per il trasporto a corrieri che non sono che non magari che non rispettano determinati standard di sicurezza per quanto riguarda i locali dove sono stivati oppure lasciati dispositivi e quindi magari un malintenzionato può accedere al passatemi il Bartolini di turno andare lì e magari inserirmi nel mio un firmware buggato con delle funzionalità diciamo remote nel mio dispositivo che poi mi viene consegnato a casa e io li installo quindi io vado ad attaccare l'anello debole di tutta la finiera della supply chain per colpire un un'amministrazione che da un punto di vista di sicurezza è più protetta le suggerisco inoltre alcuni c'è anche una ISO molto molto diciamo interessante la legge che era 31.000 sulla supply chain risk management da approfondire e c'è anche per quanto riguarda il NIST il cyber security supply chain risk management del NIST che sono delle linee guida diciamo sugli aspetti da tenere in considerazione per quanto riguarda i rischi di attacchi sulla sicurezza della supply chain per concludere c'è una una precisazione penso di di Bruno Citarella che dice che il valore delle competenze interne non si discute mi trova completamente d'accordo e anche sul fatto che purtroppo per per un po' di tempo queste competenze sono state assegnate all'esterno della PIA e quindi sì siamo un po' in ritardo tutti prego ok Michele mi sa che ce n'è un'altra c'è sempre Maurizio Coppola che non so se abbiamo risposto a quella che ti chiede per il personale tecnico Maurizio Coppola era questa cosa che avevo risposto io sarebbe auspicabile interna sì io volevo aggiungere un bit di informazioni in più che avevo diciamo dalle varie domande fatte durante tutti i quattro i webinar molto spesso viene chiesto qual è il software migliore per fare per le password qual è il software migliore anti malware qual è il software migliore allora la sicurezza non è un prodotto la sicurezza è un processo quindi va pensata come un processo e devo pensare a sicurizzare prima tutto il processo e poi al prodotto faccio un esempio io posso comprare il firewall molto spesso le amministrazioni compravano firewall di ultima generazione ho comprato il firewall a un punto di vista di sicurezza sono protetto non mi può succedere niente non è così anche perché il firewall di ultima generazione sì me lo porto a casa lo faccio configurare dal fornitore da contratto però poi quel firewall lo va anche gestito e manutenuto e quindi ci vogliono competenze per gestirlo un firewall di ultima generazione con numerose funzionalità poi anche se ho installato il firewall magari non ho fatto formazione al mio dipendente sui rischi della sicurezza e l'attacco mi avviene come abbiamo visto tramite phishing tramite link malevoli e lì non c'è prodotto che diciamo che tenga la prima vulnerabilità come abbiamo detto nell'informatica è sempre la persona umana quindi lì possiamo solo agire con ritornando al discorso con un processo di formazione e non con un prodotto sì i prodotti servono ma dal mio punto di vista serve cambiare approccio pensare a un processo di sicurezza all'interno delle pubbliche amministrazioni e aggiungo anche e come diceva abbiamo insomma più volte detto in questo ciclo alle volte giustamente non c'è bisogno di un prodotto tecnologicamente avanzato ma carta e penna bastano per delineare insomma un processo che sia davvero efficace e soprattutto la formazione insomma penso che ecco c'è un'ultima domanda di Coppola esistono opportunità di creare una rete tra le PA per scambiare operativamente best practice e casi d'uso nell'ambito della sicurezza informatica software e sistemi reti diciamo se ho capito bene se per rete intende uno spazio così di condivisione dove scambiarsi di idee così non c'è senso altrimenti cioè abbiamo le linee guida appunto che sono punto di riferimento per le best practice poi esistono poi comunque dei modelli per esempio mi ha rappuntato il B-SIM per esempio è un modello che contiene una raccolta di idee a misure comune di molte aziende in termini di sicurezza e io certo suggerisco appunto di rifarsi proprio ai modelli già che esistono già insomma poi questo non vuol dire che le amministrazioni non possono cambiarsi i pareri tra di loro insomma ma anche chiedere consigli al CERT non ci sono problemi insomma assolutamente allora avete risposto a tutto siete stati bravissimi finiamo in tempo io vi ringrazio tantissimo oggi appunto si chiude questo ciclo quindi ringrazio tanto Massimiliano Rossi Dario Basti Michele Petito ma ringrazio anche i docenti gli esperti delle nostre precedenti webinar Gianni Amato Luca Lusini e Vito Luca Torto vi ricordo sempre che potete recuperare tutto quello che abbiamo fatto dalla nostra pagina di eventi PIA perché all'inizio proprio c'è un link che vi porta alla playlist di YouTube dove trovate tutte le registrazioni vi ricordo un'altra cosa visto che lo chiedete in chat noi diamo l'attestato di frequenza a chi ha partecipato in sincrono almeno a tre eventi su quattro purtroppo ci chiedete se guardate le registrazioni questo non lo possiamo fare le registrazioni vi servono soltanto a recuperare i contenuti persi però non sono utili per acquisire l'attestato vi ringrazio tantissimo vi torno a invitare a compilare il questionario molti di voi lo hanno fatto proprio mentre eravamo online e appunto vi saluto rimanete sempre collegati con la home page del sito Formez e la home page del sito di Agid per le nostre iniziative future che come sapete riguardano sempre hanno principalmente diciamo come target i responsabili della transizione al digitale ma anche chi opera all'interno dei loro uffici ma anche la platea più ampia di quelli interessati alle tematiche che trattiamo vi ringrazio moltissimo e buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti buona serata a tutti grazie grazie a tutti